ciao bellezze, eccomi tornata con un nuovo video e questo video come si può ben vedere dal appunto da ciò che c'è è un altro video titolato vita da mamma ovvero i prodotti che utilizzo per la bimba e non solo è un po quello che utilizzo durante il giorno scusate raffreddore ma come avete visto sono al nord e quindi mi raccomando se vedete su instagram se non siete ancora se non siete ancora scritte iscrivetevi e scrivetemi su instagram se non mi seguite comunque sono al nord e nevica praticamente quindi mi sono beccate raffreddore allora partiamo subito voglio confermarvi visto che l'ultimo pacco ahimè almeno qui al nord gli agis unistar questi qui per chi non lo sapesse l'acquiste della lidl era il pacco grande e la terza taglia quindi 4 9 kg ogni pacco nei conti nei 22 e devo dire che sono fantastici i temini sopra sono tremendamente carini e appunto abbiamo in questo caso il re leone e appunto sono gli unistar questi qui fantastici il prezzo è fantastico e sono buonissimi ragazzi assorbono tantissimo il bambino asciutto e pulito la bambina asciutto e pulito insomma dipende e praticamente non perdono non mi fanno fare tutte figure insomma ci siamo capite perché mamma lo sa quindi promossi e promossi sono questi qua che ho acquistato ieri questi qua li ho acquistati ieri a risparmio casa il risparmio casa credo sia una patina del nord vi lascio comunque in info box il link e appunto ha in offerta questi qua fino a non ricordo che c'erano di marzo comunque gli agis a 2,49 euro al pacco e ne abbiamo compati un bel po' però stavolta non sono gli agis unistar ma bensì gli agis bimba sempre terza taglia come questa qui questo contiene 22 questo ne contiene 20 e va dai 4 ai 9 kg sempre quindi è perfetto e ci dice l'immagine che appunto è un asciutto su misura progettato per lei in quanto appunto la parte assorbente si trova avanti poi sono anche gli agis bimbo che penso abbiano diverse qualità e quindi appunto vestibilità migliore terresto appresso a differenza di cui unistar che quindi vanno a benese per bimbi che per bimbe intendiamoci questa differenza questi qui hanno mini la fascia di testo elastica quello sicuramente come potete ben vedere è appunto a mini su entrambi i lati poi cosa voglia dirvi più voglio bocciare assolutamente come ho sempre fatto queste qua non mi piacciono ragazze un altro pacco finito ma un altro pacco che sto finendo a più di forza in quanto comunque sia non mi piacciono e mi dispiace buttarle vera mamma non ci piacciono le trovo inizialmente asciutte totalmente asciutte verso il fondo sono tutte umide sono proprio bagnate fradice e sinceramente non mi piace questo fatto qua sono 56 sabbiettine e devo dire che il pacco comunque piccolino rispetto all'altro in giro e vabbè nulla vedrò di finire il resto comunque continuo a dire che per me sono bocciate poi ho finito del tutto quasi il bepantenol che comunque vi consiglio anche se ci sono altre paste cambio molto molto più vaide probabilmente questa qua tende a lasciare leggermente la parte unta quindi oleosa si vede quando la dà togliere il pallone al bimbo comunque la di farmacia è un ottimo 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 prodotto certo è comodo perché appunto è questo qui la stuccino quindi voi premete non sporcatevi le mani non vi sprocate le mani volevo dire scusate e il prezzo comunque è abbastanza mataggioso continuo ad amare la pasta hof ma questa qua di amido mio dell'ofidra l'unica cosa appunto rispetto a questo qui è pratico perché spremite ed esce questo qui c'è di infilare il dito dentro il che è un pochino poco eginico sempre risparmio casa che però non sono ancora di niente ho trovato questa qui che è una crema morbibibi che è la linea che fanno anche loro di pannolini che costano 3,39 euro che ho provato e mi sono trovato abbastanza bene sono tipo gli aggis un po più grandi e non assorbono tanto quanto gli aggis però sono abbastanza quali qui dice protettiva viso al corpo con stati naturali appunto dice che è nuovo per non so se c'era o non c'era io ho messo la foto su instagram di prodotti e ho preso perché non sono solo questo qua ma anche altri e appunto è una pasta cambio io la voglio utilizzare come pasta cambio anche se poi c'è vita al corpo ma mai la mettere subito mia figlia non per qualcosa ma cerco di utilizzare 0 sono 100 ml pagata intorno ai 2 3 euro sono veramente le scritte tutto quanto è molto molto in rilievo da 0 mesi e dice appunto e contiene aloe vera praticamente e quant'altro questi sono gli ingredienti dice corpo o le mandorle dolci sulla veglia più della piccola quantità un massaggio senza paraffine terrestre profumo senza allergeni e testa presto mi farò sapere in un prossimo vita da mamma probabilmente però posso sicuramente confermarvi il mio al momento al momento specifico perché poi ecco quando finisco faccio un'ecensione sicura come per queste qui amore per queste qui sempre risparmio casa sempre legna questa qui da intenderci c'è in questa versione gialla e persone ma non cambia assolutamente niente se non il colore esterno delle sapiettine sono stata tre ore lì vicino a cercare di capire la differenza ma non c'è assolutamente tessuto effetto micro spugna è verissimo in quanto sono molto simili alle mie amate agis sapiettine senza senza coloranti senza parabeni senza peggie senza alcol detergenti ed ad antico aloe vera e limandorla sono ottime ragazzi buonissime l'odore è fantastico agricoltura bio in quanto si ci indicano che praticamente gli ingredienti che sono questi qui appunto provengono dall'agricoltura biologica quindi penso che sia ottimo fiacca piatto un euro il costo è di un euro e qualche centissimo circa parliamo anche di prodotti per noi e non solo voglio sinceramente consigliarvi questo qua non ci fosse appunto che una crema lavante per i bambini e devo dire che è fantastico ma hanno regalato è finito quindi ve lo consiglio assolutamente anche se adesso ne sto vedete un altro e vi farò sapere voi non mi sono trovata bene per niente con questo qui della nero roberts fresco del verde lime design alluminio antibatterico naturale vitamina e non mi sono trovata venite bene rispetto a quello l'inversione blu viviamo tantissimo dentro nobberts e tantissimo questi stick perché veramente restano a lungo in particolare appunto quello lì azzurro e fenomenale poi ne parlerò perché sicuramente lo acquisterò poi voglio bocciare in qualche modo il dentacrux complex 3 della erba flash che trovate alla lidl per un euro e qualcosa il prezzo è conveniente ma se devo essere sincera non fa nulla ai denti se non pulirli ogni tanto così ma non è che gli splende questa roba qua quindi non mi piace dover niente idem per questo qua pastore il capitano più attaccare e proteggere le gengive aiutare a riminerizzare lo smalto due sali di floro eccetera eccetera mi pare che l'ho acquistato sempre risparmio casa per qualche euro o anche il vino ma non mi è piaciuto assolutamente ragazzi cioè non ci siamo per niente